qui nel secondo spazio di telebari social night abbiamo il piacere di ospitare un maestro della ristorazione italiana che vanta ben 5 stelle michelin chi lo scopriamo subito dopo questo filmato e diamo il benvenuto allo chef igles corelli benvenuto grazie buonasera a tutti ecco grazie per essere venuto e aver scelto telebari so che ha mille cose da fare ma è arrivato qui da noi a mille cose da fare e sappiamo essere in un amatera per insomma esatto sono amatera sono sopra luoghi ci si sono alla ricerca di prodotti di grande qualità perché io sono un fautore del chilometro italia non di chilometro zero quindi vado in giro per italia cercare i prodotti migliori e devo dire che qui ce ne sono veramente tanti ecco lei quando ha iniziato nel mondo della ristorazione e allora io ho iniziato all'età di 12 anni perché i miei genitori avevano una trattoria e poi mentre andavo a scuola quindi dopo la scuola alberghiera alla sera quando tornavo a casa lavoravo con i miei quindi potete immaginare sono adesso 68 anni sono 50 56 anni che faccio questo mestiere non è poco non è poco ma nemmeno tanto per aver insomma guadagnato cinque stelle che ha tatuato anche sul suo avambra sì allora qui qui ci sono le stelle qua ci sono i di veronelli qua ci sono le tre forchette insomma ecco i miei tatuaggi fanno parte delle mie medaglie insomma così beh rappresentano dei traguardi importanti sì no no devo dire che ho avuto delle grandi soddisfazioni e la mia vita è sempre più movimento ero molto legato alle tecnologie negli anni 80 e tuttora dirigo la scuola di gambe rosso che è un laboratorio di cucina estremamente sperimentale insomma ecco lei è stato il primo chef a introdurre il concetto di cucina circolare in che cosa consiste allora negli anni 2006 2007 ho iniziato a studiare la materia prima ad esempio quando entrava in cucina la so il sedano il cuoco lavava il sedano tagliava poi l'utilizzava per 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 fare brodi fondi invece ho sempre detto se la materia prima è così importante e io ho le conoscenze quindi devo utilizzare tutta la parte del prodotto e cercare delle ricette per far sì che siano di grande effetto quindi lo scarto chiamato dalla gente le foglie per me invece la parte migliore per fare il sale perché per fare un sale aromatico servono le foglie essiccate per creare un buon brodo servono le coste estreme che sono più aromatiche per fare un insalata serve il cuore quindi tutti i prodotti quando ci sono in mano vengono studiati in questo modo quindi la filosofia non si butta nulla però non esiste scarto e questo la mentre adesso si parla di riciclo qui non è riciclo benissimo e ricerca poi c'è anche un altro tipo di cucina che riguarda sempre la sua filosofia che è quella garibaldina questa invece a che cosa si ispira la cucina garibaldina perché io non amo il chilometro zero ma amo andare a cercare il meglio che c'è in italia e quindi diventa garibaldina cioè è assurdo limitare i propri orizzonti nel proprio orticello le patate sono buone da vezzano il pomodoro del pieno è buono su vesuvio gli orticole le orticole sono buone in puglia quindi oggigiorno bisogna andare a cercare il meglio che c'è una paglia di aglio va o a nubie o va a ferrare insomma ecco quindi io ho provato un oltre di fare un orto sinergico in toscana però le uniche cose che erano buone erano il cavolo il broccolo le patate non erano buone l'aglio non era buono quindi alla fine bisogna andare a cercare nel loro territorio posso vai andrea quanto è importante per la formazione ma anche proprio per la crescita personale viaggiare per chi vuole fare cucina e allora ecco è determinante in effetti da quando io ho smesso di avere un luogo fisso e avuto modo di andare a girare la mia qualità di vita e anche di lavoro è migliorata molto perché uno si mette a contatto con altre culture si mette a capire altri metodi ed è veramente determinante mentre invece se uno si chiude il proprio ristorante non ha un e poi dopo c'è una caduta non c'è una crescita qual è il prodotto scusami andrea vai 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 la mia curiosità è questa qual è il prodotto pugliese che secondo lei non ha uguali in quanto a qualità rispetto alle altre regioni quali sono quali sono certo sono diversi insomma ecco le orticole sicuramente il grani antichi diciamo sicilia forse pesce di grande qualità ma c'è veramente anche perché io ho scoperto purtroppo negli anni che il pesce crudo lo mangiamo solo qui in puglia e nemmeno nel salento a dire la verità veramente non sanno cosa si perdono no infatti probabilmente nemmeno al nord vero chef ma la cultura è qui da voi poi dopo logicamente viene catturata anche da altri da altri posti però fino agli anni ottanta che il il grande mercato del pesce non era solo milano perché adesso è milano e quando si veniva in puglia logicamente si andava a mangiare il pesce crudo ma di grandissima qualità cioè le tagliatelle di seppia o le coste pelose o il riccio di mare ma anche il limone di mare che mi piace dopo tanto tempo però che inizialmente ma non lo mangi da nessuna parte cioè qui è veramente abbiamo parlato del grano e ci sono tantissime nuove attività imprenditoriali in questo in questo ramo ho sentito anche di pasta porreca un'imprenditoria al femminile so che lei ne è venuto in contatto esatto devo dire che sono partito anche da da roma anche per questo motivo per conosco questa realtà e devo dire che ha una pasta veramente eccezionale per loro me l'hanno mandata a me mi arriva un sacco di prodotti a roma perché col fatto di di avere la scuola di cucina mi mandano dei prodotti per testare per provare mi chiedono com'è con noi l'abbiamo provata e devo dire che veramente eccezionale e ho voluto venire giù per capire un po' la filosofia di questa azienda tutto il femminile ma la qualità delle farine che usano è interessante e siccazione lenta quindi per il tipo di cucina che faccio io che risolto tutte le paste non le cuociono nell'acqua quindi perdono poco amido è interessante se arrivano troppi pacchi da lei a roma le do subito l'indirizzo e non ho problemi puoi lasciarli anche anche il mio ogni tanto ne approfitto allora intanto sappiamo chef che lei ha un particolare rapporto con un altro chef noto super noto adesso super noto grazie anche al programma no master chef stiamo parlando chiaramente dello chef barbieri e noi abbiamo un filmato però poi voglio sapere qualche aneddoto particolare vediamo beh questo denota comunque una grande confidenza no che c'è tra di voi e beh bruno ha lavorato come lui è stato il mio su chef per 14 anni quindi ci siamo conosciuti in america e quindi ho aperto questo ristorante molto importante negli anni 80 che ritrigavolo e l'ho fatto venire in brigata con me quindi l'ho proprio tirato su da piccolo formato e poi devo dire che siamo andati con a questa selezione di master chef eravamo rimasti in cinque e alla fine hanno scelto lui almeno hanno scelto lui quindi beh una soddisfazione per lei giustamente ma ci racconti qualche aneddoto qualche aneddoto particolare che il primo che le viene in mente ma con bruno ma devo dire che gli hanno fatti di tutti i colori per quello che lui ha detto fuori dalla cucina si è vendicato sì 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 giorno di ferragosto un giorno di ferragosto gli ho fatto un gavettone di 20 litri di fumetto brode ma sulla mia macchina lui si è nascosto nella mia macchina si è arrivato il bidone tirato giù il vetro e ti sfido e zà che glielo ho tirato dentro quindi c'era proprio una una gogliardia notevole domanda seria per un esperto di formazione come lei è formazione anche quella televisiva no ok no no perché lo chef è totalmente diverso cioè il lanciare i piatti essere così rudi non totalmente l'incontro cioè è proprio l'opposto cioè lo chef più è calmo e più è tranquillo più la brigata riesce a lavorare bene e i piatti hanno un altro risultato qui è show quindi se uno fa vedere come si lavora in cucina non avrebbe così successo sarebbe banale alla fine insomma invece bisogno di fare di fare tanto teatro e invece per quanto riguarda la cucina dello stupore lei ha rilasciato una dichiarazione secondo cui è contrario a questo tipo di cucina questa questa sorta di filosofia perché sta diventando un po troppo barocca nel senso che ci si mette allora si mettono molte tecniche nel piatto che poi alla fine non hanno sostanza basta una tecnica due non riempire il piatto e di fiori e di croccante e di acido e di fermentato cioè io io personalmente non ne posso più veramente non cioè si sta perdendo veramente il gusto italiano in effetti tutti i ristoranti all'estero di cucina italiana ad un certo livello non funzionano non ha mai funzionato nessun cuoco parte qualcuno ma pochi non ha cioè all'estero ha successo la cucina italiana quella vera non quella artefatta ecco la cucina italiana vera che tra l'altro stanno per inserire no come patrimonio unesco secondo lei come siamo riconoscibili all'estero qual è il piatto che ci caratterizza di più agli occhi del ma degli europei anche ma quasi allora beh all'estero sono gli spaghetti con le polpettine quindi è tutto un dire no di conseguenza però gli italiani cioè quando gli italiani amano molto la cucina del territorio quindi si identificano cucina italiana mentre all'estero non c'è non si capisce per quale motivo non perché i cuochi italiani all'estero si fanno abbindolare nel senso che l'americano vuole lo spaghetto ragù però ci vuol mettere anche la panna ci vuol mettere l'ananas dicono sì va bene mentre i francesi non accetterebbero mai queste cose ecco anche la cucina francese tra l'altro alle sue particolarità lei ha mai pensato di introdurre qualche tecnica ma io sono stato in francia diverse volte devo dire che mi piace molto la cucina molto l'accoglienza francese il come propongono loro la loro cucina un po meno il loro fare in cucina cioè la cucina molto pesante a me non piace molto mentre invece quella italiana quella vera italiana eccezionale le devo dire una cosa comunque che sono stato catturato da un un ristorante amatera che è sono tre generazioni utilizzano le tecnologie con la cucina contemporanea con la cucina tradizionale e tirano fuori delle cose interessanti quindi la cucina tradizionale in chiave moderna scienza stravolgione sarà sicuramente vincente ma ricca è arrivato il momento di dare spazio e voce al popolo di instagram abbiamo preannunciato la presenza dello chef qui da noi e sono piovute domande possiamo partire con un po di curiosità ci chiedono lo stato di salute dei nostri funghi e devo dire sulle murge purtroppo è stata un po spietrata e quindi funghi non ce ne sono pochissimi la fortuna che ci sono alcuni coltivatori che fanno dei funghi nelle 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 balline insomma e stanno un po salvando il cartoncello e devo dire che hanno trovato anche un modo di di coltivare interessante perché sono circolari stanno così facendo questo prodotto con non so dei gussi di 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 nocciole con degli scarti legati al grano insomma circolare circolare ancora un'altra curiosità ci arriva da apostrofa di pancia che ci chiede consigli per la cucina per come ricette per comuni mortali per la pasqua la pasqua se rimaniamo in emilia romagna la pasqua è la lasagna cioè quindi per noi la lasagna lasagna e poi l'agnello e poi le uova le uova sono interessanti anche come antipasti io ne faccio una che non è proprio semplice da fare che è una pasta a filo con dentro della ricotta l'uovo crudo chiuso a fagottina poi fritto e quindi diventa quando uno taglia tutto croccante fuori dentro è morbido con con un po' di tartufa le rimane in puglia in pa a pasqua no mi ero già prenotato ma ci sono dei delle video ricette che magari qualche amico a casa se volesse potrebbe insomma cercare online sui suoi social si si su youtube ci sono tutte le ricette che ho fatto per il gambero rosso il gusto di igles trova anche luogo croccante non è più nemmeno ancora domande da instagram l'ingrediente più versatile in cucina beh devo dire che il cartoncello è democratico vero ed è un fungo e stra ed è un fuori che sta bene un po con tutto quindi è un prodotto veramente interessante perché non non ha questo sapore proprio marcato democratico veramente sta bene un po con tutto questa sua esperienza qui tra puglia e basilicata è una toccata e fuga pure vuole stringere un legame con il nostro territorio no no sono qui anche al di là di scoprire però settembre ottobre devono gioco gambero rosso per parlare appunto della puglia della basilicata quindi avremo modo poi di di risentirci possiamo whatsapparla come stiamo facendo in questi giorni certo anzi se mi date alcune dritte su certi prodotti sarei ben felice ci proviamo dal nostro piccolo assolutamente saremo ben contenti di farlo e noi chef la ringraziamo per averci dedicato questo suo tempo preziosissimo speriamo di rincontrarci appunto presto per queste novità che c'è già spoilerato come si stanno comportando i nostri con regionali o cugini lucani devo dire benino col fatto che gli è esploso tutto questo turismo non sono ancora ben propensi non sono ancora dei romagnoli se si vede che non proprio gli sta in questo momento gli sta un po stretto però si stanno rilassando quale marcia devono ingranare la seconda adesso hanno ancora la prima la seconda poi dopo la terza e poi la quarta però la quarta succede solo in romagna perché sono ormai 50 anni che vanno avanti col turismo la puglia che marcia sta e la puglia sta forse la terza no no siamo sulla buona strada sì sì no sono veramente siete veramente bravi i pugliesi sono forti viva il made in italy viva la puglia viva chef corelli e viva anche telebari social night assolutamente la nostra avventura continua dopo la pubblicità viva